Ogni legame è come un vincolo da abbattere e prevale allora la figura dell'atomo errante, dell'atomo che mira a valorizzare illimitatamente se stesso e che quanto più si illude di essere autore, di essere demiurgo del processo, tanto più ne è in realtà disposto, ne è utilizzato alla maniera di un giocattolo per riprendere l'immagine che usava Martin Heidegger in relazione alla tecnica. Quanto più ci illudiamo di signoreggiare la tecnica, tanto più ne siamo signoreggiati, cosicché l'imperialismo del soggettivismo dell'uomo moderno si rovescia nell'imperialismo oggettivistico di una tecnica che dispone dell'uomo stesso. Il consumatore diviene consumato, l'utilizzatore della tecnica è in realtà der Gebrauchte, l'utilizzato dalla tecnica stessa. E questo implica un paradosso se ci pensate. Abbiamo figure dell'erranza come tipiche del modello occidentale contemporaneo, figure dell'atomo errante, che sono anche molto diverse fra loro, perché cosa avranno mai in comune lo start-upper cosmopolita che abbandona prontamente ogni angolo della Terra per fare fortuna, modello Robinson Crusoe, con lo studente dell'Erasmus Generation che vive in un mondo senza confini ed è convinto che in qualche modo il suo posto sia quello di essere in movimento permanente, di essere cittadino del mondo, cioè di non avere un posto fisso nel mondo, di essere permanentemente in movimento. E cosa avrà mai ancora questo profilo e ancora quello precedente in comune con quello del migrante, che è un'altra soggettività tipica dell'odierno capitalismo. Il migrante, che come suggerisce il participio presente, si muove di moto perpetuo ebrauniano nello spazio liscio del mercato globale, è un'altra figura dello sradicamento. Il capitalismo contemporaneo non coincide più con il vecchio capitalismo borghese, quando il nichilismo era ancora in stato nascendi. Il soggetto contemporaneo non è il soggetto dei romanzi di Balzac, il borghese in qualche modo statico, con il suo arsenale di valori ben solidi. Il soggetto contemporaneo è post-borghese, come è anche post-proletario, ed è in una condizione di erranza perpetua, ed è essere pronto a spezzare ogni legame, anche a livello psicologico. Deve percepire ogni legame come un vincolo da abbattere, in modo che accetti con solenne compiacimento e con ebete euforia, con stolta letizia, ciò che il sistema della produzione gli impone, cioè l'essere permanentemente in movimento. Sostanzialmente noi sappiamo tuttavia che non ogni legame è un vincolo da abbattere, vi sono anche legami che generano libertà, i legami comunitari di cui scriveva Aristotele, i legami familiari, i legami amicali, i legami con le comunità e con i territori, i legami di solidarietà di classe e welfaristici, sono legami che andrebbero preservati proprio in ragione del fatto che generano libertà, laddove bisognerebbe certamente spezzare i legami che negano la libertà e che invece curiosamente sono quelli che l'ordine neoliberale promuove, incentiva e favorisce. Ecco, questo dispositivo di tramonto dell'Occidente si misura in molti ambiti, la distruzione dell'ambiente, la distruzione della società, come si diceva, la distruzione dell'uomo stesso che diventa sempre più macchina utilizzabile, rotella di questo ingranaggio, l'uomo al tempo della sua riproducibilità tecnica, dicevo, si misura sul piano della guerra che diventa guerra totale, diventa mobilitazione totale e guerra totale. Qual è l'obiettivo di questa guerra, di queste guerre? Non ha altro obiettivo se non l'occupazione integrale del mondo da parte della forma merce, l'imposizione planetaria di un unico modello che è quello basato sulla violenza ai danni dell'essente in tutta la sua totalità, in tutta la sua espressività. La guerra in questione, la guerra che stiamo vivendo, è la guerra che il modello occidentale sta dichiarando a tutto ciò che ancora non sia conforme ad esso. È sempre la stessa logica di sviluppo sottesa anche a questo processo. È quella che sul piano metafisico chiameremo la furia dell'illimite, propria del capitale. Apeiron la chiamavano i greci, l'assenza di limite, la smisuratezza. Sul piano morale si determina come violazione di ogni inviolabile. La libertà, come viene concepita dall'ordine del discorso capitalistico contemporaneo, coincide con la pulsione a trasgredire ogni norma vissuta come un limite da abbattere. Ancora sul piano della sfera mondo diventa lo sconfinamento permanente del capitale. Il capitale deve inglobare tutto ciò che ancora non sia interno al suo modello. E quindi questo modello... E quindi questo modello... E quindi questo modello...